grande napoli buonasera a tutti dal vostro grande grandissimo capitano napoli seppur influenzato in cerottato straordinaria prestazione del napoli che batte 1 a 0 il Liverpool con gol d'insegne su un bellissimo passaggio al centro aria di Calegion grandissima partita e prestazione del napoli contro i temibilissimi avversari del Liverpool ultimi finalisti dell'ultima UEFA Champions League il napoli nel secondo tempo pochi minuti prima su un bellissimo traversone di Mario Rui aveva anche preso una clamorosa traversa a portiere battuto con Mertens che purtroppo la palla gli era arrivato praticamente sul collo del piede e non proprio sul piede grande 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 vittoria del napoli secondo i pronostici che non erano a nostro favore salve abbiamo vinto contro il Liverpool la strada è ancora lunga ma in questo momento siamo in testa al girone di Champions League con il Napoli a 4 il Liverpool a 3 il Parin San Germain a 3 e la stella rossa di Belgrado è una straordinaria meravigliosa prestazione del Napoli che vince 1 a 0 e l'ennesimo gol di Lorenzo Insigne su grandissimo passaggio di Calegion diamo i voti Ospina 7 ha giocato benissimo ha fatto due scelte molto importante Colibali 7 Albiol 7 Marrui 7 Maximovic 7 Benissimo Fabio Ruiz 7 Amsic 6 non una straordinaria partita Anzi ok diamo 6 e mezzo Alain 7 e mezzo Mertens che è subentrato 7 è stato sfortunato che non ha trovato il gol Calegion 7 e mezzo ha fatto il passaggio del gol Insigne 7 e mezzo ha fatto il gol Milik 6 e mezzo scusatemi non farò video lunghissimo seppur che ha fatto questa straordinaria vittoria del Napoli contro il Liverpool ma sono sempre forza Napoli raffreddato e sono tutto chiuso e Napoli vince contro il Liverpool 1 a 0 sempre comunque forza Napoli e Napoli ha strameritato la vittoria con anche lei come si può dire meritata anche perché pochi minuti prima c'era stata anche una traversa del da punto su cross di Marrui a portiere battuto davanti alla porta di me che l'ha preso col collo e non col piede il Liverpool in questa partita non è quasi ripeto quasi mai stato veramente pericoloso nella porta del Napoli è stata una prestazione più che sotto tono del Liverpool si è fatto sorprende dall'aggressività a centro campo e sulle fasce del Napoli nella doppia fase di possesso o di non possesso palla e Napoli ripeto fa la grande impresa vince 1 a 0 contro il Liverpool gol di Lorenzo insigne circa all'ottantanovesimo Napoli va in testa addirittura girone di Champions League Napoli 4, Liverpool 3, Paris Saint-Cermain 3 scusatemi stella rossa 1 sempre e comunque forza Napoli vi augura a tutti una notte azzurissima per il nostro grandissimo Napoli che batte 1 a 0 il Liverpool e va in testa ai gironi di Champions League dopo due partite sempre e comunque forza Napoli ce la possiamo giocare per eventualmente cercare di passare aiutare il Liverpool almeno ce la potremo tranquillamente giocare e oggi l'abbiamo dimostrato sempre e comunque forza Napoli una buona notte a tutti ripeto Napoli con orgoglio batte 1 a 0 il Liverpool meritatamente gol di signa il 98 novesimo suo bellissimo passaggio al centro area bellissimo di Calle John buonanotte a tutti e ciò voglio